Il rossetto nel frigo, l'arancia tra la biancheria, lo spazzolino nelle posate, le calze nel piatto, il Vangelo nei rifiuti, di improvviso il caos. Fraseggi senza logica, domande infantili, confusione tra sole e luna, astinenza dall'igiene, apatia e attivismo, venere nell'Ave Maria, Gesù in catullo, spavento per la luce, fubia per i balconi. Vi chiedo perché, cerco di capire, mal di testa, vertigini, malesseri, disturbi, nessun sintomo. Chiedo testimonianze al fornaio, al lattaio, al fruttivendolo, tutto normale, le solite rosette, il solito latte della centrale, la solita cicoria, la solita frutta, bere i kaiser, i pomodori di Pachino, gli odori, arance rosse di Sicilia. E allora, perché a casa la babele? Dopo mesi, dopo molti mesi, ho saputo. Erano i segnali, i primi della malattia. La proteina cattiva assassinava i neuroni.